presidente buongiorno la saluto con tutta la mia gioia saluto il ministro franceschini sua figlia laura con grande rispetto e affetto e saluto tutti gli amici del cinema che sono qua amici ed amiche e lasciatemi esprimere tutta la mia allegria per essere qua inopilatamente è consuetudine che chi riceve questo premio immeritatamente come me debba porgerle il saluto da parte di tutto il cinema io volentierissimo lo faccio con tutta la mia allegria è vero perché se manca un po di gioia come ha detto papa benedetto sedicesimo se non c'è un po d'allegrezza non c'è nemmeno lo spirito santo ha detto quindi vogliamo stare qui senza spirito santo sarebbe il colmo facciamolo entrare ci vuole un po di gioia e poi a dovere insomma mi scusi se sono un pochino così pieno di entusiasmo e di esuberanza ma è un po dovere dell'artista mettere un po di caos nell'ordine fare di ogni soluzione un enigma come si dice no e quindi la salutiamo la salutiamo a nome mio sono il portavoce del partito del cinema del pc di questo partito del cinema italiano questo partito del cinema italiano che la saluto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti